Questo è il mio libro, libro scritto e dipinto a quattro mani con Andy, Andy Fluon, dei Blue Vertigo, che vedete qua. È un libro dove racconto la storia di 73 cocktail, scusate il bisticcio, che hanno fatto la storia, cocktail fossili, dall'Ottocento ai giorni nostri, più o meno ai giorni nostri. In realtà non è un libro semplicemente sulla storia dei cocktail, ma sugli intrecci che i cocktail hanno avuto con il mondo dell'arte, della letteratura, della storia, del mondo della cultura in generale, perché il consumatore medio è abituato a pensare che non ci siano agganci, in realtà ci sono e come tra i grandi barman che li hanno creati e i grandi appassionati di cocktail che li hanno bevuti. Caso esemplare addirittura a questo cocktail eseguito a quattro mani, il Negroni, che appunto fu un drink realizzato dal barman Fosco Scarselli e dal conte Negroni a Firenze. Sono tante storie che raccontano di come certe bevande non nascono, come dire, a caso, nascono in dei periodi storici perché erano diffusi determinati tipi di prodotti e determinati tipi di culture. Cocktail Safari è questo, è questo viaggio avventuroso. con Mattia Pastori andremo a raccontare alcune delle vicende e siamo pronti per portarvi in questo viaggio sicuramente spiritoso perché il cocktail per suonatura è materia spiritosa.